Siamo contentissimi, siamo contentissimi soprattutto perché c'è stato, quindi il risultato più grande è stato proprio quello di dare il via a questa bellissima manifestazione che ha portato a Firenze tanti giovani, ma soprattutto ha portato a Francesco tanti giovani. E sappiamo che portare i giovani a Francesco significa poi portarli a Gesù, per cui per noi il grande risultato è proprio stato quello di aver vissuto questi giorni. Poi siamo molto contenti per come sono andati questi giorni in una bellissima Firenze illuminata dal sole, colorata dalle magliette dei ragazzi di Francesco Live. Ci siamo trovati proprio immersi in tante parole, in tante emozioni ed è veramente una gioia grande quella che ci portiamo nel cuore di ritorno da questa esperienza. Anche Papa Francesco ha voluto far sentire la sua vicinanza a quest'evento. Se così la possiamo definire è stata la ciliegina sulla tolta, ma dire poco, dire questo. Comunque è stata veramente una grande sorpresa, un grande dono ricevere dal Santo Padre un telegramma nel quale ecco ci esorta a non aver paura. E allora è stato per noi anche molto significativo leggere le parole del Papa il giorno dopo aver fatto la giornata inaugurale, nel quale abbiamo proprio parlato di coraggio, nella quale proprio il verbo osare è stato il verbo che abbiamo consegnato ai giovani per guardare a un futuro diverso da quello che magari tante notizie di oggi ci fanno pensare. Cosa porteranno questi giovani a casa adesso? Sarebbe molto bello chiederlo a loro. Noi speriamo che portino a casa un po' di quella gioia di Francesco e speriamo che portino a casa un po' di quello sguardo di Francesco, capace di guardare il mondo, ma soprattutto di guardare il mondo e attraverso il mondo riconoscere i segni della presenza di Dio. Il cantico delle creature per noi è proprio l'emblema, riuscire a lodare il Signore attraverso ciò che ci circonda. Io spero, noi speriamo che i ragazzi possano portare a casa questo sguardo. Secondo te cosa ha affascinato tanto i giovani su San Francesco? Perché i giovani sono così affascinati da Francesco? Posso dire quello che affascina a me? A me affascina vedere in Francesco un uomo capace, come ci dice anche il Papa nel telegramma, di sapere andare oltre. Un uomo capace di sognare, un uomo capace di inseguire i suoi sogni. E io credo che questo, come ha affascinato me, stia affascinando tanti giovani, abbia affascinato tanti giovani nel corso dei secoli.